Una ragazza di 24 anni, Arianna Uzenovic, è deceduta in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 a lungo la statale 16 nei pressi della Torre del Cerrano. Nel frontale è rimasto praticamente illeso il conducente dell'altra vettura di 34 anni, trasportato comunque in ospedale per accertamenti. Il personale del 118 ha provato a rianimare la giovane sul posto, ma gli sforzi sono stati purtroppo inutili. Sul posto gli agenti della stradale di Teramo per rilievi del caso. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni il tempo necessario per consentire di mettere in sicurezza la carreggiata. I mezzi sono stati posti come da prassi sotto sequestro e per consentire tutti gli accertamenti il 34enne verrà iscritto probabilmente sul registro degli indagati come atto dovuto. La 24enne arrivava da Roseto e lavorava nello stabilimento Rolli. Secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe perso il controllo della Peugeot 206 che stava guidando ed invaso la corsia opposta nella quale in quel momento procedeva il 34enne ferito. Il PM di turno Stefano Giovagnoni darà nelle prossime ore il nulla osta alla sepoltura.